Ho sfidato la mia ragazza, che non aveva mai giocato a un Tenkaichi Ah, le andini sta facendo! E direi che si vede, a completare il 3 prima dell'uscita del 4, ovvero Sparking Zero. Facile, no? Ce la farà la nostra Eroina K? Seguiteci per scoprirlo. Va bene, quindi tentativo numero 2 nel battere Vegeta. Tra l'altro dimosti che stavo giocando di battere Vegeta, ero a 4 tentativi, falli tutti e 4. Quindi vediamo se finalmente riesco ad andare avanti, cioè abbiamo appena iniziato, sono già bloccata. Ero a 4, giusto? Sì, storia del drag devo fare? Sì, io intanto, aggiornamento, ho migliorato un po' la schermata, adesso ho messo la schermata intera, ho migliorato un po' l'impostazione della grafica, quindi abbiamo un po' di, un po' più di qualità, 4%. Mamma mia, vabbè, un'ora di gioco ci sta, quindi io devo selezionare Vegeta. Sì, vai. Battaglia suprema decisiva. Allora, l'ultima volta abbiamo avuto difficoltà con Vegeta, eh? Cosa che ci sta, perché? Sì, però ci stavo prendendo la mano. Sì. X, sì. Eh, se togli il tuo, ma cosa che faccio qua? Star, no, ok. Ah! Oh, già ti ricordi come se ci si carica, o hai schiacciato a caso? Sì, hai schiacciato a caso, ma... Ma ci è arrivato. Oddio, la difesa, il quadrato. Cerchio. Cerchio. Cos'è cerchio? Dov'è cerchio? Quello. Cerchio. Passo indietro a KMMA. Cerchio, tienilo. Bene, vai. Questa l'ha presa. Bravissimo. Bene, bene. Meglio dell'altra volta la difesa, eh? Eh, si dirà un po' la volta. Maledetto. Ma cazzo è che si avvicina a così il trovato? Sì. Cioè, bravissimo. Eh, non hai fatto il tempo. Eh, ma vabbè, cioè, ma cosa devi avere? Cioè, il... Kaioken. Il... Porca miseria. Devi ancora capire come si fa il Kaioken. Boom, grande. Bastardo. Ma che figlio di una brutta persona. Uh! Stai facendo una combo figa, eh? Ma ti pare, chi ti deve fare con Kyo? In questo gioco, se schiacci il cerchio al momento giusto che lui ti attacca, fai la schivata. Fai il teletrasporto, no? Cosa devi imparare anche quello? Che qua sa già far trasportarsi, go. No, è più una schivata che un teletrasporto, diciamo. E quando ti esce il cerchio, devi schiacciarlo più volte, lì. Ah, non è tenere premuto. No, tenere premuto solo quando ti fa le mosse. Quando stai volando via, ci cerchi più volte. Ah, ok. Bravo. Per tre? Si, buona. Quindi cosa è successo? Hai finito questo parte, adesso ti ricordi che diventa... Sì. Ah, no, prima fate occhio, eh? Ti ricordi l'analogico, così? Qua, dei due. Sì, questo qua, senza orario. Adesso? No, no, chiaro. È solo... Cioè, io devo solo fare... Sì. Non devo lanciare. Pronta, vai. Grande! Vai, vai, subito, caricati. Adesso, sì. Caricati. Per andare da lui è solo L2X. Madonna mia, già lì che cazzo vuol dire? Amore, te l'ho spiegato. Sì, ma secondo te io me lo ricordo, cioè... E fermati un attimo e puoi anche fare start, eh? Ah, no, non mi piace fare start. Io ho... Madonna, ma muori, ma muori, ma muori, ma muori. Ti giuro, ti do le cazzottate per la vita. Perché? Bravo. Adesso diventa Simeone. Sì, è lì con la vita finita, eh? Cioè, però lui si era full adesso, basta. Sì, è lì con la vita finita, Kakarot. Sì, è lì con la vita finita, ora. Sì, è lì con la vita finita. Sì, è lì con la vita finita. È lì con la vita finita, un monstre finita. Poi sei sconvolto, ma dritto, così. A quelli dei monsterni? Dai, yeah. Ma per queste cose... Però appena l'hai fatto di attaccare, perché l'hai cercato. Scomodo... Mi trovo scomoda con i comandi qua, però è una cosa che mi ci dà male. Posso dare un consiglio con il Cimione? Sì. Carica la... Scappa, carica l'aura e fagli le onde. Basta. Le ondine? No, le camia mea. E spostati. Quando ti fa questa. Sesto f***o. Ops. Scusate, nulla. Ecco, continua così. Sono dei caricati. C'è sto la legge. Cos'è R3? R destra, 3. Ascolta, non lo dire come se fosse una roba facile. No, ma l'altra volta... Ma ti ricordi. Sì, me lo spieghi, lo capisco ed è facile. Ma ti devi solo calmare. Sul momento, sul momento. Ti devi solo calmare. Non mi viene in mente, ok? Eh, vabbè. È normale che non ti viene, però devi calmarti, relax. Ma non solo calma, però non mi... Non mi sembra. Ma perché mi fa incazzare il fatto... Amore, ero in 3, come se lo dovessi sapere. No, cazzo. Non lo so, punto e stop, me lo dovessi dire 10 volte. Concentrati su vegetale. Sono concentratissima io, eh. Lei non ha idea. Sì, ma non me lo dà il tempo di ricaricarmi. So pezzo di merda. Eh, poi le scriva tutte, cioè... Troppo fa... Dei picchiare. Sì, ma cazzo, capisci che stavo usando il tasso sbagliato? Ho visto. La mia attenzione era quella di picchiare. So che non sono ancora... Oh, figlio di schifo. Via. Yoho! Eh, chi è che l'ha riparata questa? L'ha riparata? Lei l'hai riparata? Ah, questa era molto vicina. Eh, ciao. Che palle. Eh, perché non vuoi consigli? Ci credo. Ma perché è troppo facile se mi dai consigli? No, ti do un consiglio. È come mettermi da poppa pronta a qualcuno che deve imparare. Lasciami fare. No, ma devo solo... Impostarmi mentalmente con questi tasti qua. Ok. La cosa più difficile è sempre questa. Il capire quale comando fa cosa e ricordarsi la memoria dove si trova. Cioè, tu sai che qua c'è il quadrato, qua c'è il triangolo, qua c'è il... Io non lo so questo. E già lì sono in svantaggio. Non mi ricordo neanche cosa fa cosa. Ma è sempre scarico sto qua. Come Cacarot, che palle c'è. Cioè, va bene che viaggete forte qua, né? Eh, ma vedi, è la difficoltà. Lo dobbiamo essere in difficoltà. Normale. Eh, è difficilissimo. Ah no, vedi. C'è per fare. C'è una buonissima. Ma sei un pezzo di merda! No, basta. Non devo dire parlaccio. Vedi, sono molto rallentata io. Sì. Boom, subito. Quando finisce la combo, subito, parti tu. Tutto la presa. Intanto lui è ganassa. Ah no, basta. No, basta. No, basta. No, è scuri per forzare. Allora, questa è una patente di prima. No, no. Ma che cosa stai? Oddio, che fatica, ragazzi. Sai cosa? Adesso ho la testa nel cerchio e continuo a spicciare il cerchio, ma in realtà il cerchio non colpisce. Adesso ho preso sta pezzo, sto schiacciando. Stavo schiacciando. Con un quadrato colpisco, quindi. Sì. Il primo tasto che abbiamo imparato. Dio, ti tiro una testata, ti faccio svenire qua per terra, cioè, veramente, mi devi rompere i maroni. No, è trabe, non ci sentire. Primo tasto, settimana prossima, me lo dimentico, cioè, tu cosa credi? Se vuoi Mr. Satan ti può dare delle lezioni, ho sentito. Com'è che si taglia qua? Si taglia? Cosa vuoi tagliare? Vai, 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 vai. Fallo stancare, così. Vai, vai, sì, magari. Così contro di te fa schifo. Anch'io le faccio così le pressioni. Così? Certo, cosa credo. Adesso mi devi toccare, zio, non mi tocchi, non mi tocchi. No, perché scusami quando inizio non ho già Laura al massimo? Cos'è sta roba? Neanche lui non ce l'ha. Sì, ma vaffanculo, me ne sono accorta adesso. C'ho da più parte di un svantaggio, devo caricarmi. Anche lui non ce l'ha Laura. Sì, ma capisci che io non sa... Non essendo me ne è resa conto, non mi caricavo. Sì, oh, ti distruggo. Wow! Ok, ma cosa stavo facendo? Wow! Che urlo. Camemea adesso! Adesso! Ma sei un pizzolo, un zuccone! Zuccone, zuccone! Grande, l'hai presa. Buona. Perché? Cos'è? Spiegami la stessa cosa. È andata incontro alla tua camemea. Zuccone, zuccone cagone. Brava! Stai sparando, stai sparando! Perché l'hai schiacciato al momento giusto. Ma mi è schiacciato. Sì, ho capito. Era implicito. Era chiaro, bisognava capire qual era il momento giusto. Anche quando ti fa questo, se tu provi a schiacciare, ta, ta, così. Non so, non sto schiacciando. Oh, figlio! L'ha schivata, peccato. E che puoi continuare a schiacciare i cerchi, anche quando non dovrai. Boom! Camemea! Eh, non ho l'ho inizio. Sì, ma sei una pippa, Goku, però. C'è da dire che abbiamo anche una trasformazione che non stiamo usando. Non mi devi scassare i coglioni per questo cacaco. Vabbè, ok. E se ne frega, cioè, lo faccio anche venti volte, non mi interessa. Tanto poi tagli tutto. Passiamo dalla... Questa cos'è? No, no, non taglio niente. La gente soffrirà insieme a me. Ah, ma che cazzo stai soffrendo a fare? Dai, mi stai facendo. Ecco, adesso mi tolto la concentrazione. Wow, cosa ho fatto? Figissimo. Ma Dio, ma... Ma va... Ma vai, fa R3. No, no, va R3. Cos'è che? È il proseguire della storia. Oh, adesso diventa scignone. No, prima c'è il festival delle fiacche. Questa è la sessa, quindi... Sì, fate due. No, tre. Settima. No, non posso. Non rubare. Settimo tentativo. Partiamo malissimo. Sì, al prossimo tenkaici. Tenkaici, diciamo. Sì. Ci stiamo allenando per il prossimo tenkaici. Ma fa malissimo sta roba. Eh, lo so. Cosa pensi che noi degli anni 90 e così non ci siamo spaccati le mani? Eh, non sono riattiva, io sono in questo... DAI! Non vedo dei lievi miglioramenti a ogni partita. Eh, ma lo so. Non riesco a caricare niente. Puoi anche spostarti, eh. Con X, eh, così esatto, se ti spara l'onda. Se hai tempo. Dai, veloce! Mi piace. Bravissima. Carica, 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 carica. Brava, scignone e hai una buona vita, eh. Faccio l'idea, faccio l'idea. Ci fa così un docchio. Non ci voleva. Lo tanto sta sparando cagate, perciò poi hai tempo. Posso fare shop e start. Shop, sì, sì. Options, sono cose. Quindi qua. Devi scappare, devi scappare. Indietro X. Scappa e fagli le onde, perché quando lo picchi non lo smuovi. Brava. Perfetto. Ancora, ancora. Spamma le onde e fa un culo. Vai. Bravissima. Vai, vai, vai. Finché ci casca va bene. Vai. Ma pezzo. Sì, sì, sì. R3. Perfetto. C'è fatta? Non lo so. Vediamo. Dai. Adesso cos'è? Mi prende e mi strigge. Oh, occhio. Tasti. Oh, no. Non questo. Non questo. Ma sei un bazzardo. Oh, grande. Scappa di nuovo. Onde, onde. Scappa, scappa. Vai indietro. Non riesco, non ce lo faccio. Come cazzo? X indietro, X indietro. Ma, ma vai indietro, sto c***o di merda. L2, X indietro. Ma vabbè, va al culo. Cosa vuol dire L2, X indietro? O X indietro o... Eh, mi sono sbagliato. L2, X indietro. Ma, puttana, no, dai. Vabbè, prova a picchiarlo. No, Dio mio. Prova a picchiarlo, con calma. Mi viene da piangere. No, no, tranquilla. Vai. Ma cazzo, ma cazzo. Ma dove hai? Ecco, vedi? L2, X indietro, ci sei. Boom. Sì, ma non si sta caricando. X, fermati. Ecco. Con X ti fermi. No, 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 no. No, dai che ce l'avevo, no, dai che ce l'avevo. Ti giuro, è colpa tua. È colpa tua. Ma zio, perché mi hai detto stranzate. Mi hai detto quasi che... Cerchio. Basta Eh ho sbagliato io Pensavo fossi X indietro Invece quando sei vicino X indietro fai solo tipo così Un passo Invece è L2X indietro Che due coglioni però Figa Ho stenzito dai consigli come cazzo si deve dare Ho ragione qua ho sbagliato però Cos'è che si va indietro L2X E indietro L2X indietro E un'altra roba ancora Non lo so esageriamo Facciamo triple X Z Y K Ti ho detto che è un gioco difficile Non è un gioco facile Però ti ricordi che diciamo L2X vai contro Ti ricordi Sì me lo ricordo Ma veramente hanno dovuto diventare una roba del genere Si ho capito basta Che palle Veramente ero tanto così Porca puttana Mi stai sul cazzo adesso Cioè adesso mi stai sul cazzo per un po' mi starei sul coglioni Ti arrendi così Certo dopo uno si rompe il cazzo capisci Soprattutto se sei a tanto così Non so se eravamo a tanto così Ascolta Avevo un sacco di vita L'ho persa tutta perché non riuscivo a scappare da quel ciccione di merda Ma che rottura di coglioni Ma puttana Ma vaffanculo Faffanculo, mi sono rotto a te Madonna Ma perché sta roba di merda ancora Quanto so, posso abbandonare la partita Arrenditi Quanto vuoi stai perso Perché non ha messo Riprova che era più Più veloce Perché erano gli anni 2000 Adesso non riesco più Perché mi sono incazzata E' bello E' bello E' bello E' quando sei incazzato che non riesci a giocare a giochi di merda Certo, ne so qualcosa